Lo sanno tutti, per tenere un'auto in condizioni eccellenti ed essere dei proprietari perfetti, bisogna fare tre cose. Tenere la sua meccanica sotto controllo. Ogni due o tre anni l'olio lo cambio comunque. Guidarla in maniera impeccabile. E curarla come fosse una persona. Uso addirittura il sapone che adopero io per farmi la doccia. Giusto? In 30 secondi hai detto tutto quello che non si deve fare. Così non va. E da oggi le cose stanno per cambiare. È tornato cortesie per l'auto. A me gli occhi. In ogni puntata due proprietari dovranno sfidarsi e dimostrare la passione per le loro auto, superando l'impietoso giudizio di tre giudici inesorabili. Emma Motorsport, lo specialista della meccanica, il maggiore esperto di motori nel web. Vicky Piria, la freccia tricolore. L'unica pilota italiana selezionata nel campionato mondiale femminile di Formula 3. Marcello Mereu, più che un car detailer, il guru del dettaglio al servizio della bellezza automobilistica. E alla fine, solo chi otterrà il voto più alto troverà nella sua macchina il sigillo di Cortesie per l'auto. L'unico certificato al mondo che conferisce il titolo di proprietario perfetto. Cortesie per l'auto. La sfida che accende la passione. La sfida che accende la passione.